Finita la seconda giornata del gruppo A della Lady Spring Cup 2015, vittoria all'ultimo secondo delle 12 Blue contro le Film Master, abbiamo da una parte Leparulo per le Film Master, dall'altra parte Fontana per le 12 Blue, Leparulo eravate in vantaggio 3-0, 3 gol nei primi 6 minuti, dopo che era successo? La Roccaforte non ha retto. No, ci è mancato un po' il fiato, comunque dobbiamo fare un bel po' di allenamento, noi siamo qua alla fine per divertirci e per giocare a calci fondamentalmente, la sfida c'è, ci vuole però come vedi all'inizio e poi tanta forza quanto niente fiato proprio. Se loro invece sono calate alla distanza, voi invece avete vinto proprio sul finale, una rete, un assist per te, alla fine ve la siete cavata, tantissime occasioni da rete però alla fine avete vinto. Molti tiri, però all'inizio avevamo proprio scariche, alla fine ci siamo caricate e abbiamo vinto. Voi avete comunque riposato settimana scorsa, quindi avete una partita in più da giocare rispetto alle vostre avversarie e partite con una sconfitta all'ultimo secondo, però sicuramente non partite battute. No, sicuramente no. Quindi obiettivo per il torneo? Riuscire a passare almeno questo turno? Giocare per divertirci, magari se vinciamo non è una cosa brutta, no? È giusto. E invece voi sconfitta la prima giornata, tu non c'eri, e invece questa volta avete vinto, ora siete un passo in più verso il prossimo turno. Si spera di continuare su quest'onda e vincere, però anche noi siamo qui per divertirci ovviamente. Vabbè, ci si diverte però se si vince è meglio. Grazie ragazzi, vi lascio andare a fare la doccia. Buona serata e alla prossima. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.